Surreale che io si è invitato a tacere e visto che il disastro Monte dei Paschi di Siena, città dove Letta si candiderà alle elezioni suppletive della Camera, ha un nome e un cognome, Partito Democratico. Così su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, replicando al capogruppo del PD della Commissione Finanze alla Camera, Gian Mario Fragomeli, il quale ha dichiarato che Salvini dovrebbe tacere su MPS. MPS. Faremo da guardiani. Non accetteremo che con denaro pubblico si facciano favori ai privati, sacrificando posti di lavoro e sportelli, ha assicurato Salvini. MPS può diventare la banca delle PMI e dei territori. Padoan, eletto con il PD a Siena, se n'è andato per andare a fare il presidente di Unicredit, che ora vorrebbe comprare MPS. Solo in casa PD si vedono vergogne del genere. In qualsiasi altro paese si sarebbe già dimesso, ha concluso il segretario del Carroccio.